Il caso che si è registrato riguardante la signora rumena residente nel comune di Ravanusa risultata positiva al covid-19 trasferita all'ospedale di Caltanissetta dopo essere transitata all'ospedale di Canicattì ci preoccupa e non poco. Il campanello d'allarme è risuonato anche nel nostro territorio. Con queste parole inizia la lettera che il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha inviato al prefetto di Agrigento. In queste ore, ha detto Di Ventura, ho raccolto le preoccupazioni di tanti cittadini e con questa lettera mi faccio portavoce dell'intera comunità. Come lei già sa, dice Di Ventura, rivolgendosi al prefetto Maria Rita Cocciufa, Canicattì è un territorio di rilievo per le attività agricole particolarmente interessato dai numerosissimi trasferimenti di braccianti provenienti dall'estero, prevalentemente dall'Europa orientale. La critica situazione sanitaria che si è registrata in questi giorni nei paesi dell'est ha spinto il Ministero della Salute a firmare un'ordinanza in cui si dispone che in tutto il territorio nazionale i cittadini che provengono dalla Romania e dalla Bulgaria debbano porsi in quarantena. Questa misura è già vigente per tutti i paesi extra Unione Europea ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare, aggiunge il sindaco di Canicattì. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione. La maggior parte degli arrivi di persone provenienti dall'estero avvengono tramite autobus e quindi sarebbe necessario effettuare degli accertamenti al terminal affinché si possano monitorare i flussi in arrivo di tutti gli stranieri che transitano per Canicattì. Come responsabile della mia comunità sono fortemente convinto che si devono mettere in campo tutte le azioni utili e necessarie per poter controllare al meglio le situazioni che si vanno verificando e quindi poter rasserenare tutti gli abitanti di questo nostro vasto territorio a vocazione agricola che vede Canicattì come punto di riferimento, nonché tutte quelle famiglie in cui si registra la presenza di badanti che accudiscono gli anziani, ovvero le persone più fragili, quelle maggiormente a rischio contagio Covid. A tal fine dunque si ritiene necessario coinvolgere tutte le istituzioni presenti sul territorio per la prevenzione e il monitoraggio affinché si possano scongiurare possibili focolai.